I dati di un bollettino del Ministero che direbbe che non c'è differenza tra una dose, due dosi o tre dosi. Il nostro amico israeliano ci ha appena detto, per noi valgono i fatti, da quando facciamo la terza dose non si ammalano più le over 60. Questo è il quadro. Mi dice per favore la sua con la chiarezza che la contraddistingue? Ma guarda, io le do i dati di quello che stiamo vedendo nei nostri ospedali. Noi fondamentalmente vediamo recuperati non vaccinati e chi ha fatto la vaccinazione più di sei mesi fa. E sono dei dati molto evidenti di quello che hanno visto gli israeliani, il che vuol dire che fondamentalmente due dosi, probabilmente quando hai più di 60 anni o sei fragile, non bastano e quindi bisogna fare rapidamente la terza dose, ma molto rapidamente, perché qua abbiamo ancora una fascia importante di persone che hanno ricevuto due dosi che non l'ha ancora fatta. Quindi su questi dobbiamo correre molto velocemente. Molto velocemente vuol dire prima di raggiungere il Natale, dove si prevede che ci sarà il picco di questa quarta ondata. Quindi dobbiamo sicuramente mettere in sicurezza tutte le persone con più di 60 anni e tutte le persone che hanno delle fragilità con la terza dose.